Colleghi, a questo punto pongo in votazione il disegno di legge numero 1905 barra B, votazione elettronica, la rispongo io ad ufficio. Votazione elettronica, quindi si vota il disegno di legge, votazione aperta. Colleghi, scusate, avete votato tutti? Votazione chiusa, leggo il risultato. Presenti 266, votanti 265, maggioranza 133, favorevoli 161, contrari 98, astenuti 6, il Senato approva.